Lo Sporting Venafro è in piena attività. L'obiettivo è quello di allestire una squadra attrezzata, capace di dire la propria, nel prossimo campionato di Serie B di Calcio A5. Il presidente Primavera, il mister Matticoli e i loro collaboratori stanno lavorando sul mercato senza sosta e in queste ore hanno messo a segno un colpo importante. Il centrale Carlo Natale, trentenne originario di Bellona in provincia di Caserta, ha firmato il contratto che lo legherà la società bianconera per la prossima stagione. Un calciatore che nel tempo ha coltivato la sua passione per lo sport anche attraverso lo studio, visto che ha conseguito la laurea in scienze motorie e che insegna educazione fisica. Col mondo del calcio A5 ha grande familiarità. In carriera ha collezionato esperienze in Basilicata, Umbria, Lazio, sempre in Serie B. E alla città di Venafro è molto legato. Qui ha iniziato a muovere i primi passi da calciatore, avendo militato per tre stagioni da ragazzo proprio con un club del posto. Lo scorso anno era tra le file del futsal parete in Serie B. La squadra aveva l'obiettivo di mantenere la categoria e ha vissuto una stagione oltre le aspettative, classificandosi settima. Per me questo mondo è tutto, ha detto. Ci sono dentro praticamente da quando sono nato e tra le mie priorità ho molta fiducia nei miei compagni di squadra. In rosa ci sono giocatori validissimi, molti di questi anche parecchio esperti. Molto dipenderà dal girone in cui saremo inseriti, ma sono convinto che si può fare bene. L'acquisto di Carlo Natale arriva dopo quello di Leo Melfi e le conferme di Gianni Iacovino, Carlo Labella, Gaetano Di Paolo, Pasquale Valvona e Alessio Andreozzi. Soddisfatto il presidente Primavera. Carlo è un giocatore di grandissimo talento e di intelligenza, oltre che un bravissimo ragazzo. È una pedina fondamentale per la nostra squadra. Grazie a tutti.